Movimentiamo Baharia si fa promotrice di un evento sul tema dell'agricoltura e della salvaguardia del territorio. Agricoltura e salvaguardia del territorio è un binomio vincente perché l'agricoltura non la possiamo più pensare soltanto come fonte di produzione alimentare, ma l'agricoltura deve servire anche per tutelare l'ambiente e salvaguardare il territorio. Movimentiamo Baharia come sempre ha coinvolto l'università, nel caso di specie la facoltà di Agraria, quindi avremo la professoressa Germana che ci parlerà di Limone, poi il dottore Ferlito, un ricercatore crea del distretto di Acireale, poi abbiamo coinvolto alcune realtà imprenditoriali rappresentate da Rosario Provino di Ecofruit e Antonio Fricano, presidente del consorzio Apo, e poi mi piace ricordare la presenza di un giovane, un agroingegnere, studente della facoltà di Agraria, Nicolo Cannizzaro, a testimonianza del fatto che il settore agricolo può essere una grande opportunità di lavoro per i giovani. E poi parleremo di salvaguardia del territorio, perché anche in funzione agli ultimi eventi macabri che sono successi, che hanno causato la perdita di vita umana. Il dissesto è idrogeologico perché purtroppo l'uomo, tutto il danno che l'uomo ha fatto alla natura, la natura ce lo sta restituendo con gli interessi, purtroppo. Lo facciamo perché partiamo dal limone che rappresenta la vocazione storica del territorio di Bagheria, però il limone si è un po' perso nel tempo ed è stato sostituito da nuove colture, nuovi sistemi di irrigazione con la meccanizzazione, la trasformazione, e quindi può essere questa una grande opportunità per i giovani, infatti c'è il ritorno, molti giovani si stanno dedicando al settore agricolo. Dietro questo simbolo, Movimentiamo Baharia, c'è il ragionamento del nostro movimento, le basi fondamentali del nostro movimento. Abbiamo scelto Movimentiamo perché l'obiettivo del movimento civico è la partecipazione della gente dentro la vita politica. Baharia perché è il nome storico del territorio e poi il verde della terra e della speranza di un futuro migliore è l'azzurro del mare di Aspra. Vi aspettiamo puntuali sabato 15 dicembre alle ore 17 presso l'auditorium San Pietro Bagheria.